Poi nel 2010 ho vinto un titolo mondiale, da lì è stata la svolta nella mia vita perché ho iniziato a combattere in Thailandia, ho combattuto in Inghilterra, Scozia, Messico, Svizzera, Ucraina, India. Buonasera ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio. Oggi siamo qui con Gian Piero Sportelli, sono un allenatore e atleta di Muay Thai vigilato. Domanda con la quale parto sempre in ogni episodio, dopo la scuola, quando tu finisci il liceo, cosa facevi, cosa volevi fare? Allora, io sono sempre stato appassionato di due cose, lo sport, quindi le competizioni, e il viaggiare. Per fortuna con la Muay Thai, allenandomi giorno dopo giorno, facendo dei sacrifici, sono diventato un atleta professionista e questo mi ha consentito di realizzare anche quello che era il mio sogno, viaggiare nel mondo per le competizioni. Quando è stata la prima volta che tu hai deciso di... Ok, io oggi vado in palestra, inizio a prendere cazzotti. La mia passione per la Muay Thai, in generale, è nata per caso. Io ero un appassionato di gare automobilistiche. Perché un giorno su Erosport c'era una pubblicità di match di Muay Thai, quindi mi sono incuriosito, sono andato a vedere. Lì è nata la mia passione, no? Poi, casualmente, andando a mare con i miei amici nella spiaggia di Portorosso, visto l'insegna della palestra Muay Thai Kickboxing, ho detto proviamo. E da lì è nato il mio grande amore per le arti marziali. Ok, ma aspetta, quindi quella palestra prima non era tua? No, ero semplicemente un allievo. E quando c'è stato lo step? Dall'allievo, da diventare l'allievo a diventare il maestro? Col tempo sono cresciuto come atleta, mi sono appassionato, ho iniziato ad arbitrare, ho iniziato a vivere a 360 gradi il mondo della marzialità, degli sport da combattimento. Nel 2019 poi ci fu un cambio di gestione e quindi ho deciso di rilevare quella che era l'Academy in Phi System, la palestra storica dove sono cresciuto grazie ai miei maestri. Quanto tempo ci hai messo, o in genere anche secondo te, quanto tempo ci dovrebbe mettere un allievo alle prime armi per poter arrivare a fare le gare? Questa è una domanda molto particolare. Ognuno di noi ha i propri tempi di apprendimento, quindi ci sono dei ragazzi che apprendono più velocemente, ragazzi che magari prima delle arti marziali hanno fatto un certo percorso sportivo, quindi dal punto di vista motorio hanno già superato degli step fondamentali che sono gli schemi motori di base, quindi si sanno muovere, sono coordinati, hanno la coscienza di quello che è il loro corpo, conoscono il loro corpo. I ragazzi magari che vengono negli sport da combattimento però che prima non hanno sviluppato queste capacità possono metterci un po' di tempo. Un ragazzo secondo me, un ragazzo che si sa muovere, coordinato, per imparare le basi e sapersi muovere ci vuole almeno un annetto per salire sul ring sicuri, che si sanno muovere bene, che possono dire la loro e sono anche belli da vedere dal punto di vista estetico, quindi che hanno appreso bene la tecnica, si sanno muovere e hanno acquisito quella che è la sicurezza in sé, che è la cosa più importante negli sport da combattimento. Hai detto la bellezza estetica, c'è proprio da vedere ad oggi, con l'esplosione del mondo dei social, quanto è show e quanto è poi realtà. I social sicuramente hanno velocizzato dei processi, ma allo stesso tempo distolgono dalle cose essenziali. Cosa voglio dire? Sicuramente adesso gli sport da combattimento sono degli sport di massa, perché nelle palestre, grazie ai film, ai social, Instagram, Facebook e tutti i social network, c'è stata un'esplosione nelle palestre. Ma dall'altro canto bisogna saper anche avere uno spirito anticritico di cosa guardare, perché si rischia di guardare anche esempi o cose che non sono inerenti alla marzialità vera. Mi viene proprio un esempio, che secondo me è un po' uno storpio, non so se ti trovi d'accordo con me, Logan e Jake. Sì, loro sono personaggi mediatici, quindi attirano intorno a sé tanta gente, tanti spettatori, quindi tanti paganti fanno audience, quindi il problema qual è? Che magari un ragazzo che è un portato, magari merita di arrivare a certe competizioni nazionali, internazionali, su palchi prestigiosi, magari rischia di essere messo da parte perché non vende. Quindi non è importante più quanto tu vali sul ring, ma quanto tu riesci a generare e vendere. E questo è un peccato, perché va a togliere quella che sia la meritocrazia di molti atleti. Molti atleti meritano dei palchi importanti, ma non riescono ad arrivare perché generano poco. E questo non va bene, perché la meritocrazia in tutti i campi, non solo in quello sportivo, può essere la musica, può essere nell'ambiente scolastico, deve essere sempre premiato. Purtroppo in questo i social hanno creato un po' a volte anche l'imbarazzo nei noi istruttori, perché ci sono degli esempi che non vanno seguiti o non sono meramente positivi per i ragazzi. Però in realtà, hai parlato anche di profit, avevo letto un tweet di Jake. Sì. E lui disse che voleva, da quello che sa, so, come l'ha scritto lui, in UFC il minimo che un fighter guadagna 12.000 dollari, più o meno. Sì. Comunque, se fai uno o due incontri all'anno, tre incontri all'anno, non ti cambi. Sì, il problema è che quei 12.000 dollari non sono neanche netti, perché vanno distribuiti con il manager, vanno distribuiti con la palestra, vanno distribuiti con terze persone. Quindi di quei 12.000, 10.000, 15.000, 20.000, devi andare a calcolare che l'atleta in sé si mette in tasca il 60% della borsa totale. Poi sappiamo benissimo che una cosa sono 10.000 dollari in Italia, una cosa sono 10.000 dollari in America. L'America ha dei costi di vita maggiori. Molte volte i trasferimenti, gli allenamenti, gli infortuni, sono tutti a carico degli atleti. Adesso sta cambiando, sta iniziando a parlare anche di pensione per gli atleti. Lui ha detto che voleva entrare nella UFC per cambiare il sistema, fare fuori molti fighter, però aumentare gli stipendi. Cioè, a minimo 50.000 incontro, però queste sono... Il problema è che l'UFC, a differenza di magari quelle che possono essere le Olimpiadi, l'UFC è una lega privata. Come molte leghe degli sport e combattimenti, l'interesse dei privati è vendere. Molti atleti vengono pagati, parliamoci chiaro, ticket commission oppure anche in base alle vendite in pay per pay. Quindi, se è un atleta, si vende un milione di abbonamenti. Nel contratto c'è scritto se su quel milione il 15-20% è dell'atleta. Quindi, questo vuol dire che, chiaramente, non è il valore dell'atleta, ma quanto l'atleta è bravo a vendersi, a proporsi, o quanto l'atleta riesce a generare. In Thailandia pagano in base alle percentuali delle scommesse negli Stati. In Europa, dove non si vende poco in pay per view, si paga in base alla ticket commission, quanti biglietti riesci a vendere a tuo nome. In Gran Bretagna, dove c'è un grosso movimento di pugilato, MMA, muetai, un lottatore gli è garantito una borsa minima, che può essere da 2, 3, 5, 6 mila sterline, e più la ticket commission, quanti biglietti tu riesci a vendere a tuo nome. Quindi, prendi una percentuale del 20-30, stabilito dal contratto, di ticket commission venduti a tuo nome. Si è andato anche in Thailandia, giusto? Sì, sì, sì. Ok. Però, da quello che so, la differenza, cioè, un ragazzo oggi vede la UFC, anche perché, come dire, non possiamo negare che sia, forse ad oggi, la lega più alta. Sì, la UFC è quella che ha dato maggior visibilità agli sport da combattimento, su questo non ci sono due. Quindi, un ragazzo vede quello, vede il McGregor che fa due incontri all'anno, fa il cazzone, però penso che se ci spostiamo già in Thailandia è un po' diverso. In Thailandia il mondo degli sport da combattimento è molto diverso. In Europa, in America, è molto più narcisistico, se vogliamo. Sì, sì, sì. In Thailandia è diverso, fa parte della loro cultura. Sono meno pieni di sé i lottatori, giocano molto di meno sui social, forse anche la loro cultura li ha portati a approcciarsi in maniera diversa ai social. Loro sono più personaggi divertenti, ma non c'è questa... Non c'è la gara a chi c'è la più grosso lì. Esattamente. I personaggi, purtroppo, come hai citato tu, McGregor, molte volte, si generano tanti soldi, però non danno un'immagine positiva dello sport. Ma infatti ti dico, io crescendo, l'ho un attimo... Le figure come Roy McGregor le ho molto rivalutate. Per carità, è stato un grandissimo fight, anche perché adesso diciamo che sta iniziando a perdere colpi. Sta nella parabola discendente. Invece, parlando del tuo percorso... Qualche match sicuramente online. Ho iniziato nel 2003 ad allenarmi, nel 2006 ho iniziato le mie pregare dilettantistiche, nel 2009 sono passato a professionista, poi nel 2010 ho vinto un titolo mondiale, e da lì è stata la svolta nella mia vita, perché ho iniziato a combattere in Thailandia, ho combattuto in Inghilterra, Scozia, Messico, Svizzera, Ucraina, India. Per me è stata Turchia, è stata per me una grossa esperienza, che mi porterò sicuramente nel cuore, perché è stato motivo di crescita personale, soprattutto la mia passione dei viaggi, mi ha portato anche a conoscere culture, modi di vedere, modi di fare sport in maniera diversa, di imparare dagli altri, perché si impara da tutti, e quindi è un grosso bagaglio che mi porto, e che posso, diciamo, divulgare o comunque condividere con i miei allievi. Quante volte ti sei rotto il naso? Ah. Perché penso che... Sì, allora, bisogna togliere subito questa diceria che chi si scrive in palestra si rompe il naso. No, non funziona così, anche perché dal punto di vista commerciale, io pago l'iscrizione, la mensilità, quello che sia, ti rompo il naso, penso che il giorno dopo l'allievo cambi palestra o cambi completamente sport. Quindi togliamo questa diceria che è i pugili a tutti i costi quando bisogna rompersi il naso. Può capitare, non è detto che capiti, può capitare, io mi sono rotto il naso ufficialmente, poi non so se qualche lesioncina è successa prima, dopo nel 2012, quindi da 2003 al 2012 diciamo che ho avuto in via un bel nasino, poi purtroppo in un match di MMA ho fatto un errore, ho preso un gancio, ho preso di striscio e il naso è partito un po' per la tangente, quindi mi è successo, però non è detto che è una cosa che capiti, io ho deciso di farlo a livello lavorativo, professionistico, quindi sono rischi che ho deciso di correre, ma non è detto che il ragazzo che fa l'amatoriale, il dilettante in palestra, come mai in Italia, beh in realtà a parte gli ultimi anni con Marvin Vettori che comunque è stato abbastanza forte e Petrosian che diciamo che in tutto il mondo in realtà Petrosian. Petrosian, dobbiamo dargli il merito che è stato non il numero uno, ma è stato forse il 70 kg più forte di tutti i tempi, quindi non il numero uno attuale, il numero uno della storia di quel peso. Marvin è uno dei lottatori di MMA più forti, va dato merito a Marvin come altri atleti del passato tipo Alessio Xacara, di Chirico, di essere arrivati al top, partendo da una nazione che nell'MMA ha ancora molti passi, molti step da superare, quindi partire già con un gap rispetto alle altre nazioni molto molto grande e arrivare ai vertici sono grandissimi, grandi risultati e a Marvin vanno fatti solo i complimenti per dove è arrivato, dove si è collocato e ad avere le chance che ha avuto. Grande, grande, grande merito a Marvin perché ha portato come Alessio Xacara nel passato l'MMA in Italia a fare dei grandissimi passi ad avanti e per fortuna abbiamo avuto questi pionieri perché stavamo ancora nel medioevo dell'MMA. Però in realtà appunto c'è la mia domanda è quella cioè perché in Italia ancora non siamo completamente sviluppati sotto questo punto di vista. Allora uno mancanza di organizzazione non ci sono promotion che investono questo perché il calcio è uno sport frequentato ma è molto seguito quindi anche da chi non pratica calcio segue il calcio quindi gli stadio gli abbonamenti no sono è un mercato molto fiorente il l'MMA purtroppo la Muay Thai in Italia sono seguite solo da chi li pratica quindi non riescono le promotion a entrare in Italia a investire sugli atleti poi c'è la mancanza di formazione da parte degli allenatori oggigiorno è troppo facile prendere un brevetto e diventare allenatori però poi questo va a incidere su quello che è lo sviluppo dell'età cioè investire bene l'età giovanile perché come negli sport noi vediamo solo il processo finale quindi migliori allenatori migliori preparatori migliori nutrizionisti li abbiamo con i professionisti ma dove si creano si generano l'atleta del futuro sono nelle fasce infantili nelle fasce giovanili proprio dai bambini si deve partire dall'attività motoria fatta in maniera seriamente noi abbiamo pochi professionisti in Italia che lavorano bene nel settore quindi secondo me c'è una carenza di professionalità nelle fasce giovanili però forse anche è una roba culturale perché se vai da una mamma italiana ecco e gli dici cioè io figlio dico a mia madre a 6-7 anni posso andare a a fare arti marziali i timori dovuti alla filmotografia che hanno dato un'immagine di questi sport non hanno giovato in maniera positiva magari nelle mamme che vogliono accompagnare nei primi approcci il bambino ragazzino nella palestra di arti marziali di pugilato muay thai mma però adesso che questi sport pian piano almeno dei praticanti sono esplosi mi auguro che anche chi che la sera invece di seguire la solita partita del calcio si inizia a seguire anche in mezzo di pugilato ci sono tanti praticanti di muay thai di pugilato di mma le palestre si aprono sempre nuove palestre nuove strutture più grandi mi auguro che anche a livello qualitativo ci sia uno sviluppo perché per fare l'allenatore bisogna avere esperienza per fare l'allenatore bisogna bisogna studiare per fare l'allenatore bisogna avere autocritica per fare l'allenatore bisogna viaggiare la differenza con l'Asia è abbastanza esistenziale perché in Thailandia i bambini non hanno molta scelta la muay thai per loro è un motivo per mangiare è proprio il motivo per cui entra un ragazzino in palestra in Italia o in Asia è completamente diverso ma infatti una volta mi raccontasti che in Thailandia fanno gli incontri nei bar nei pub per loro è proprio normale allora in Thailandia l'atleta si valuta in base agli stadi dove ha combattuto ci sono stadi veramente importanti i top fighter combattono a Lumpini che si trova a Bangkok a Raja che si trova a Bangkok l'Om Noi sempre a Bangkok il Max Muay Thai a Pattaya però ci sono anche stadi più piccoli e anche i bar dove gli atleti o i ragazzi possono combattere nei bar si guadagna in base alle scommesse alle mance date dai turisti la Muay Thai in Thailandia è ovunque e mi ha toccato molto parlare con una famiglia questo papà che allena i tre figli due maschietti e una femminuccia che mi ha detto guarda io facevo l'asfaltatore guadagnavo 250 dollari per 12 14 ore al giorno stando centinaia di chilometri fuori da casa mia dormivo nel camion ho detto io a questi miei figli non potevo far fare questa vita ho deciso di aprire una palestra allenarmi allenarli e di di vivere con i soldi dei loro combattimenti perché non voglio fargli fare la vita che ho fatto io ora a me non piace che un ragazzino di 12 13 14 anni è costretto a mantenere la famiglia io vorrei che tutti i ragazzi a 12 14 anni facessero sport per il piacere di farlo come scelta non come obbligo che andassero a scuola però li capisco perché in Thailand c'è la fame c'è veramente in Asia c'è la fame quindi un ragazzino che che combatte sul ring si può pagare gli studi si può pagare da mangiare può comprarsi un motorino purtroppo quel sistema scolastico thailandese che non garantisce un futuro perché le scuole private in Thailandia costano c'è questa forma di costrinzione a fare qualcosa forse la maniera più sana per i thailandesi che non condivido come modo di essere e salire sul ring è appurato di fatto che è culturalmente così forse è come 50 anni fa qua quando mandavi i figli a lavorare 50-60 anni fa esatto esatto lavorava nella terra lì è mandare i figli a combattere nei bar a volte i genitori preferiscono più mandarli negli arti marziali negli sport da combattimento dove hai possibilità di carriera di scalare le vette di avere una vita dignitosa o chi riesce a sfondare nella monetà e comunque ci sono grossi margini di guadagno anche in Thailandia non pensiamo che magari andare a fare lavori molto più più pesanti come può essere lavorare al porto o lavorare la terra che comunque a livello economico si garantiscono sicuramente ben poco purtroppo in Thailandia mi è venuto in mente il motivo la prima volta per la quale mia madre non voleva mandarmi in palestra ed è per un film Karate Kid c'è una scena dell'incontro finale dove il protagonista viene tipo colpito 4 o 5 volte qua su questa fiancata qua la gamba la coscia e gli diventa tutta nera si che oddio la facciamo vedere nel film che non si può fare ok nel Karate da mia madre non voleva anche perché quel film fece un bel successo si 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 è talmente tanto successo che l'hanno visto anche i miei genitori Karate Kid Kickboxer di Van Damme i vari luoghi a livello cinematografico hanno sfondato quindi sono arrivati nell'immaginario collettivo è chiaro che un genitore dovrebbe iniziare a scendere quello che è un film da quello che è la realtà spero che comunque con il lavoro che molti istruttori stiamo facendo per dare un'immagine positiva di questi sport e iniziano a capire che gli sport da combattimento non sono violenza sono rispetto delle regole magari nei film questo non sempre viene esaltato magari viene esaltato esattamente il contrario però le arti marziali vere sono disciplina rispetto delle regole l'arte marziale deve servire a migliorare l'autostima del ragazzo a portarlo a essere più sicuro di sé a sapersi muovere questo lo aiuterà molto nei vari ostacoli che purtroppo la vita ci porrà davanti quindi le arti marziali devono servire a questo il compito nostro di istruttori può promuovere un'attività sportiva sana e che migliori e sviluppi tutte quelle potenzialità del ragazzo che può avere i film sono un'altra cosa futuro dell'arte marziale non dico in america perché ormai è UFC e c'è il fighter che ti fa il trash talking però qui in Europa anche nella parte asiatica secondo te in futuro come potrebbe come potrebbe andare ecco credo purtroppo a malincuore che più andremo avanti con gli anni e più si andrà avanti non per atleti ma per personaggi io sarei più per fare una lega unica come le olimpiadi dove ti danno un regolamento un codice da seguire e non un codice delle vendite perché il codice delle vendite non è sempre una cosa molto positiva da proporre ai ragazzi quindi io spero che in futuro le leghe iniziano o comunque gli stati prendano provvedimenti in quello che è limitare o bloccare questo trash talking perché se metti dei regolamenti severi in cui bisogna sapersi comportare saper dare un'immagine ai ragazzi vedrai che il trash talking se c'è una legge decade perché tutto è in base alle vendite purtroppo io spero sempre che vadano avanti gli atleti per merito e non per quello che generano perché se no iniziamo a vedere nello sport come in tutti gli ambiti come può essere la musica può essere la cultura iniziamo a vedere personaggi che secondo me non sono molto positivi per i ragazzi mi dovessi dire fammi i primi nomi io ti dico McGregor perché ti fa il trash talking ci fu anche con Khabib che gli lancio la scala nell'autobus poi c'è purtroppo un altro che mi viene sempre in mente è Suga Sin perché ogni match cambia colore dei capelli sì Adesanya perché sì Adesanya tipo Matrix sì Adesanya poi mi viene in mente Marvin perché è italiano Petrosian perché è italiano Mayweather perché oddio anche in realtà ultimamente ultimamente da un po' di anni ogni post che mette su Instagram è tipo una giacca è sottoscritto quanto costa ostentare quello che ha il problema è proprio questo tolto le eccezioni di Petrosian perché eh sì Petrosian alla fine è abbastanza serio non l'ho mai visto fare trash talking e uscire fuori dalle righe quindi ed è un campione realmente affermato un campione eh quanti match ha vinti? più di 100 più di 100 sì ha perso persi ne ha tre quindi avevo quello con Superbon con Superbon ha perso con Andy Ristey un match pareggiato quando era ragazzino comunque ha perso poco Giorgio veramente un atleta eccezionale nulla da dire il problema è che faccio una piccola provocazione conosci Mayweather ma non conosci magari chi ha battuto il record di Mayweather nel pugilato eh chi ha battuto il record di Mayweather è un talandese però non viene conoscito non viene non è un personaggio un pugile molto timido ha battuto il record è arrivato a 52 vittorie senza nessuna sconfitta però non è un personaggio mediatico molte volte noi non conosciamo neanche atleti che meritano di essere menzionati perché ci sono tanti ragazzi o tanti atleti che hanno vinto titoli mondiali ci sono ragazzi che hanno vinto di più rispetto a altri altri che meritano di avere la chance ma non arrivano ci sono tanti atleti che sono arrivati al successo ma sono passati in secondo piano dal punto di vista mediatico come hai detto tu se Mayweather vince un incontro su Instagram mette io sono il più forte tu sei un coglione mentre come hai detto tu quello che gli ha battuto il record anche il tailandese non penso abbia fatto abbia scritto una cosa del genere da qualche parte mentre Mayweather poi attira tutta tutta attenzione ti dico Mayweather come è qualsiasi altro personaggio che avacca questa onda però una cosa che ho visto una cosa importante è la lingua scrivere sui social in tailandese e non conoscere l'inglese rimani chiuso in Thailandia scrivere in inglese è una lingua che arriva a molte persone è già una grossa differenza poi dipende anche la nazione dove nasce l'America l'Inghilterra sono nazioni che dal punto di vista degli sport da combattimento hanno avuto un grosso sviluppo grosse promotion una grossa macchina diciamo lavorativa molto importante molto 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 importante nascere in situazioni più disagiate come può essere io ho vissuto nel sud est asiatico Thailandia Birmania Laos Cambogia è molto più difficile è molto più difficile giocarsela sui social in quanto purtroppo in Asia non sanno scrivere in inglese è molto più difficile emergere dal punto di vista dei social l'MMA vere e proprie sono nate in Brasile con la vale tudo che voleva dire vale tutto e i primi scontri erano fatti sono stati fatti già nel 1910 a San Paolo c'erano queste sfide tra c'era il jiu jitsu brasiliano il karate quindi si affrontavano le varie scuole successivamente si sono affrontate due grosse scuole due modi di pensiero due grosse marzialità che era Giappone e Brasile quindi il maestro Kimura che era un judoka credo siamo più o meno al periodo della seconda guerra mondiale un po' prima della seconda guerra mondiale sfidò il campione di jiu jitsu brasiliano che era Elio Grace il nonno di Rinkson e Royce Royce è colui che ha vinto i primi UFC ed a questa sfida però Elio era molto più piccolo fisicamente era un 60 kg Kimura era un 84 barra 90 kg iniziò una bella sfida solo che Kimura riuscì a rompere entrambe le braccia di Elio però Elio aveva un cuore grande negli sport al combattimento quindi non ha voluto battere alla fine hanno deciso di dare il match pari Elio in onore di Kimura la leva al braccio la voluta a chiamare il jiu jitsu brasiliano Kimura e così sono nate diciamo le prime sfide tra nazioni di MMA di paletudo all'epoca in Brasile il movimento è cresciuto tanto è vero che negli anni 80 ci sono state grandi sfide anche al Maracanà che è il famoso stadio di calcio di Rio dove si sono affrontati il figlio di Elio Grace che era Rickson contro Zulu davanti Ray Zulu che era un lottatore veramente di un metro e un 90% è non so quanti chi gigante si sono affrontati due volte al Maracanà davanti a 200.000 persone e Rickson vinse entrambe le battaglie combattimenti per chi ama diciamo love style epici li possiamo trovare anche su Youtube successivamente in Giappone sono nate le prime promo motion non so se avete mai seguito l'uomo tigre c'era un personaggio Antonio Enochi nell'uomo tigre che è un personaggio realmente esistito morto credo l'anno scorso comunque quest'anno da poco che è iniziato a fare le prime in Giappone inter sfide tra stili di cui affrontava il campione di vigilato il campione di kickboxing Antonio Enochi poi ha fondato la sua Lega quindi dove si affrontavano i vari stili di combattimento di cui c'è stato anche un incontro ora non sappiamo o sappiamo ma non vogliamo rovinare quella che è la leggenda di questo incontro c'è stato anche il famoso match tra Antonio Enochi interstile e Muhammad Ali sì sì fine in pari un altro che non ti ho detto prima quando mi viene in mente qualcuno è Ali sì Ali è stato un grande un pezzo 90 e Tyson 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 a livello mediatico con i ragazzini a qualunque ragazzo chiedi qual è il pugile chi pugile conosce tutti più o meno hanno la stessa risposta Mike Tyson magari le persone di 40 50 anni tutti la stessa risposta e io mi alzavo la notte per vedere i match di Mike Tyson Mike Tyson è entrato molto nell'immaginario collettivo negli anni 80 90 poi queste sfide tra stili hanno dato un modo di far nascere i primi sfide di MMA la cosa bella è che la famiglia Grace Royce il figlio di come abbiamo detto di Elios andò a combattere in America nel primo UFC e Rickson andò in Giappone dove il livello era più alto perché era stato sviluppato già negli anni 80 90 mi sembra che il primo UFC è stato nel 94 non vorrei sbagliarmi e io per dimostrare di essere la famiglia più forte del mondo mandò il figlio Roy al UFC e Rickson in Giappone e vincere entrambi il torneo però mi viene un esempio che ha avuto un successone enorme che è Khabib e comunque o meglio da quello che ho visto io non è mai stato un personaggio che fa trash talk al massimo risponde sempre allenarsi qualsiasi cosa che lui posta su Instagram allenarsi allenarsi storia per il padre anche se adesso sei ritirato il contesto familiare di Khabib è molto particolare perché lui è cresciuto in Dagestan in Russia giusto? sì sì ok quindi una regione di guerra di povertà e nell'ex blocco sovietico la disciplina il rispetto ancora oggi è molto 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 forte nelle palestre quando sono stato in Ucraina nelle palestre di sport di fitness che sono due cose completamente diverse mi hanno insegnato la vera disciplina degli arti marziali perché noi non la conosciamo quindi quando parla il maestro ci si mette in cerchio in silenzio le mani vanno incrociate dietro la schiena quando si sta seduti si sta in maniera composta non con le braccia incrociate non si parla se si deve dire qualcosa bisogna sapere sapere quando poterla dire chiedere il permesso non appoggiarsi al muro le regole di di lavare il tappeto il tatami tutti insieme le regole delle degli arti marziali della disciplina sportiva non solo nelle arti marziali si è molto impostati molto molto impostati spero che almeno questo aspetto non lo perdano col tempo sai però comunque appunto Khabib essendo così forse perché è completamente contro tendenza anche perché poi lui ha dimostrato comunque penso che il suo match più più famoso sia quello con McGregor sì in cui McGregor gli dice tipo it's only business mentre lui lo stava Khabib ha goduto della fama di McGregor diciamo per crescere anche il suo nome no perché quando vai a sfidare persone importanti come può essere dal punto di vista mediatico Conor come può essere Floyd Mayweather come possono essere un Joshua come possono essere atleti ad Esania anche tu riesci ad assorbire parte della loro visibilità quindi a crescere la tua visibilità ma anche perché poi l'ha battuto effettivamente una McGregor quindi Khabib è un atleta eccezionale sicuramente nel suo peso oggigiorno non credo che ci siano avversari che possono essere minimamente all'altezza o al suo livello Khabib è veramente un'atleta formidabile su questo penso che nessuno possa opinare questa affermazione hai mai visto il match Mayweather McGregor sì sicuramente si sono affrontati dal commerciale due campioni di due discipline diverse quindi due hanno attirato in sé l'audience di due sport in uno se vuoi un parere tecnico del match è come se un campione di tennis tavolo di volgarmente chiamato ping pong affronti un campione di tennis a tennis non c'è partita cioè parliamoci chiaro e in questo caso penso che il tennis tavolo sia McGregor sì ma sarebbe stato lo stesso se Mayweather affrontasse Connor nella sua disciplina ognuno il suo e sì perché l'incontro era di Pugilato di Pugilato e lì è stato comunque il primo personaggio mediatico anche Trostolker che sapeva muovere la gente Alì uccidilo no perché lì sapeva muovere le folle sapeva farci era molto 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 intelligente beh arrivati a questo punto abbiamo parlato dei dei grandi lottatori di chi muove soldi di chi ne ha mossi di picchiaduro invece come tu stesso hai detto prima bisogna investire nei giovani qualcuno che magari conosci segui che è abbastanza piccolo che secondo te prima o poi diventerà l'atleta italiano Giuseppe Gentile che adesso si sta allenando in Spagna di Che Juana va seguito perché è veramente molto forte molto completo ha tante esperienze nonostante sia molto giovane perché da dilettante ha combattuto più di 200 volte al Guinness World record per il numero di calci alti tirati in 28 secondi ha combattuto più volte da dilettante per la nazionale italiana ha vinto 10 titoli mondiali dilettanti da professionista adesso che si è approcciato in questi anni sta andando molto 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 bene l'ultimo mezzo ha vinto con un francese molto forte e secondo me questo è un ragazzo da tenere sotto devi chiudere l'episodio ok fai finta che io o chi ci sta guardando in camera è un ragazzo barra genitore che non sa se iniziare se mandare il proprio figlio o io figlio se iniziare le arti marziali quindi devi chiudere l'episodio dicendo qualcosa che mi convinca che convinca chi ci sta guardando allora uno sportivo in sé per sé è abituato al sacrificio fare sport vuol dire organizzarsi fare sport vuol dire sacrificarsi fare sport vuol dire stare con gli altri fare sport vuol dire crescere a migliorare l'autostima quindi affrontare i problemi del domani affrontare gli ostacoli e non girarci attorno quindi dobbiamo vedere quello che è lo sport quindi lo sport può fare solo che bene lo sport non impoltronisce non rende migri rende dinamica una persona dinamica è una persona che ha fame ha sete di conoscenze si muove quindi secondo me lo sport in generale non gli arti marziali ma lo sport in generale aiuta i ragazzi a crescere a socializzare a migliorare l'autostima e a superare gli ostacoli e i problemi che la vita purtroppo ci pone perfetto ti ringrazio ti ringrazio per aver visitato qui è un onore è un onore mio ovviamente ma ne ha convinto quindi spero che abbia convinto anche a voi e ci risentiamo nel prossimo episodio e ci rispondiamo